Mentre in aria il trasbasso in mezzo, il tiro, palla deviata e gol del Feyenoord. Ecco il cross tagliato, secondo pallo, Mancini di testa, Lukaku sulla liria, poi il tiro, la palla finisce, il tiro fuori, Piesciaraue. Mentre in aria di rigore, attenzione, Piffer, il tiro svela! Avanza Stefano, lo punta, sterza indietro, Pellegrini, al limite, zona tiro, il tiro di Lorenzo! Tagli! Tagli! Pellegrini ancora, tre quarti offensiva, si accettra, taglio di Cristante dentro, palla per lui, Cristante muore! Stefan, uno contro due, sterza si ferma, il cross in mezzo, colpo di testa a pulire di Bala, al volo, deviato! Fuori! Lukaku la mette giù, prova a girarsi, serve il Sharawi, entra in aria, ancora il Sharawi, per Lukaku, Lukaku, Lukaku! Esce per il Reuter! Il cross in mezzo, deviazione, palla fuori! A destra Mintel, lato corto dell'area di rigore, Mintel, tiro, sfida, lato! Lukaku al limite, fita e controfitta, Lukaku! La parata di Velleroi, il miracolo! Ecco il cross in mezzo, fuori! Schiacciata! Svezhzh! Svezh! Svezh! Olah! Pobzalenski si! Sveh! 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 Grazie a tutti